Avvertenze importanti. Specifichiamo che questo video non rappresenta una consulenza di investimento né una raccomandazione di investimento, ma esclusivamente una pubblicità. Tutte le informazioni sugli strumenti finanziari trattati, compresi i rischi, sono descritte nella documentazione legale rintracciabile gratuitamente nel sito dell'emittente certificati.fontable.com. Raccomandiamo di leggere attentamente tale documentazione prima di effettuare qualsiasi decisione di investimento. In questo video si fa riferimento a performance passate o future degli strumenti finanziari. Ovviamente le performance passate, così come le previsioni, non sono un indicatore affidabile delle future. Per qualsiasi ulteriore informazione legale, consultare il sito certificati.fontable.com. Ed è una strategia short su uno dei titoli più forti di Wall Street dell'ultimo anno. Sto parlando di NVIDIA, la società che produce i chip a componenti che è davvero più importante su diversi settori. In primis quello dell'intelligenza artificiale. Quello che vediamo è un grafico su base, i daily, secondo me quello che è stato il massimo di giovedì è stato un massimo davvero importante. Una strategia che volevo portare questa venerdì, però venerdì come sapete non ero presente. Andiamo a vederlo su diversi orizzoni temporali. Sul weekly, scusate, sul monthly, quindi sul grafico mensile, il mese di settembre ha fatto una sorta di engolfing, ci ha fatto capire che quella serie di 55 dollari ad azione era molto importante e la ripartenza da quelli che sono stati i supporti lasciati in realtà ad agosto, la soglia a rotondiamo dei 400, ha permesso questo. Questo che se andiamo a vedere anche sul grafico settimanale, si è proprio esaurito in prossimità di quello che sono le resistenze statiche. Aria a 4,70, 4,80 all'intervallo, rischio e rendimento, opportunità, secondo me, incredibile per andare short, sempre in ottica di rischio e rendimento. Quindi, in ottica multi-day, cosa ho fatto? Beh, questo in realtà è una 4,63 come minimo, rappresentato da questa candela di inversione, quindi sono andato proprio a proporre una strategia in vendita a 4,63, sono stato anche un po' aggressivo invece che puntuale, 4,63 e 30, lo stop l'ho messo a 4,83, quindi non sono andato sopra il top dello scorso 12 di ottobre, ma addirittura sono andato a tenere a mente quelli che erano quei livelli precedenti maturati ed evidenziati dalla strategia studiata dal grafico su base settimanale. A livello di target ho messo 4,13 solo ed esclusivamente per una questione, abbiamo una massima di tempo, quindi era inutile mettere un livello molto più basso. Chi avesse l'opportunità di entrare in ingresso su questi valori, vedendo anche quello che si può considerare a quel punto un testa e spalle, spalla, testa, spalla e peraltro anche dal punto di vista tecnico perfetto perché vediamo l'altezza congrua tra la spalla sinistra e quella destra, come da manuale, beh, se riuscite a entrare a determinati valori come quelli indicati, giocatevi a quel punto. Una completa estensione a ribasso che porterebbe null'altro che alla chiusura di quel gap rialzista molto corposo che era stato aperto sul finire del mese di maggio di questo 2023. Grazie a tutti.